E' stato a Fogliano della Chiana ad ospitare l'ultima tappa del 2018 di Giovanni Si in Tour, l'evento itinerante per far conoscere il progetto della regione toscana per l'autonomia giovanile attraverso le voci di chi ha beneficiato dei bandi e dei contributi. Coordinati dal direttore di Intoscana.it Davide De Crescenzi, i giovani hanno raccontato le loro storie possibili, i sogni che si sono concretizzati, i progetti che hanno preso forma, ma anche le opportunità colte grazie a un tirocinio o al servizio civile. Tra le voci sul palco c'è quella di Carlo Cuoco e proprietario di un'azienda agrituristica biologica proprio a Fogliano della Chiana che grazie al bando per l'imprenditore agricola ha sviluppato ulteriormente l'attività di famiglia, esperienze che possono diventare anche leva per spronare altre ragazze e ragazze a investire su se stesse e sostenere il proprio percorso di crescita personale e professionale. Noi trasformiamo tutto ciò che noi coltiviamo, quindi il nostro slogan è la lodola semina, cresce, raccoglie e trasforma, in biologico ovviamente. Credo nell'agricoltura, ma perché penso sia il futuro, o quantomeno lo spero. Un altro giovane a raccontare la propria esperienza imprenditoriale è stato Lorenzo. Grazie al microcredito di Giovanni Sì è riuscito a coronare la sua idea di progetto, quella di aprire alla prima azienda toscana dei strati di frutta e verdura 100% naturale. Il microcredito ci ha aiutati per una buona percentuale a realizzare quello che era il sogno mio del mio socio e del nostro team, che è appunto quello di aprire un laboratorio di trasformazione di prodotti ortofrutticoli. Ci sono poi le esperienze che si trasformano in opportunità professionali. Il caso di Caterina è un'idea del percorso che la porta a trovare un posto di lavoro. Ho svolto il servizio civile con la cooperativa Progetto 5 in una scuola dell'infanzia. Prima per otto mesi il servizio civile, alla fine dopo neanche una settimana ho ricominciato come tirocinante con un tirocinio extracurriculare, sempre con la stessa cooperativa, sempre nella stessa struttura. Il tirocinio è durato sette mesi. Alla fine di questi sette mesi finalmente sono arrivati i risultati, infatti ad ottobre sono stata assunta dalla cooperativa. Poi ci sono anche Jennifer e Medevo che hanno raccontato ai giovani l'importanza del bando per il diritto allo studio nella propria esperienza universitaria. Ho soffrito dell'integrazione che la Regione Toscana dà insieme alla Borsa di Studio fornita dall'Unione Europea. È stata una bella opportunità e è molto servito anche il contributo della Regione Toscana. Dovrei ringraziare innanzitutto la Regione Toscana perché mi ha dato appunto la voglia, il supporto sia economico ma anche a livello di spinta da questo punto di vista a partire e quindi a intravenire qualcosa di nuovo e a volte difficile da accettare e da iniziare. Martina invece ha svolto un tirocinio non curricolare in una grande azienda retina, leader del settore ferro-tramviero. Questa la sua esperienza. È stata una bella esperienza e grazie, devo solo ringraziare questa scuola e Giovani Sì per aver trovato un posto di lavoro fisso. Infine Giovani Sì, come ha spiegato la responsabile del progetto Chiara Crescuoli, sta portando avanti nuove sperimentazioni con l'obiettivo di accrescere sempre di più l'autonomia giovanile attraverso percorsi e iniziative mirate. Abbiamo avuto modo di fare ben due sperimentazioni. Una si è conclusa a giugno sul tema dello Youth Worker, cioè di chi lavora con i giovani. Una è partita proprio ora invece a novembre e proseguirà per tutto l'anno nuovo che si chiama Giovani Sì Lab Scuola ed è una sperimentazione che porterà il Fondo Sociale Europeo e il Giovani Sì in dieci istituti professionali della Toscana. Incontreremo dieci classi o primi o secondi, quindi è una piccola sperimentazione ma il tema interessante è che ragioneremo con i giovani sul tema dell'autonomia e proveremo a far capire a questi ragazzi veramente giovani, perché appunto si parla di crime e seconde, cosa vuol dire affrontare il percorso scolastico, rendersi autonomi e poi affacciarsi al mondo o usufruendo anche di tutte le opportunità che appunto il Fondo Sociale Europeo e i Giovani Sì possono mettere a loro disposizione.